Jacques Derandal, come ebbe finito di pranzare, da solo in casa, disse al cameriere che poteva uscire e sedette al tavolo per scrivere alcune lettere. Li finiva così tutti gli anni, solo, scrivendo e fantasticando, facendo per conto suo una rivista delle cose passate dall'ultimo giorno dell'anno precedente, delle cose che non s'erano mai realizzate, e man mano che ricordava uno degli amici, scriveva a lui qualche riga, gli mandava il suo saluto cordiale del primo gennaio. Sedette, aprì un cassetto, vi prese un ritratto di donna in fotografia, lo contemplò per alcuni istanti e lo baciò, poi collocatolo accanto al foglio di carta e incominciò. «Cara Irene, dovete avere a quest'ora ricevuto il piccolo ricordo che indirizzai alla donna, e stasera mi sono chiuso in casa per dirvi...» La penna rimase immobile, Jacques si alzò e si mise a camminare. Da dieci anni aveva un amante, non come le solite di passaggio del teatro della via, ma una donna da lui amata, da lui conquistata. Lui non era più giovane, sebbene non fosse ancora vecchio, perciò considerava la vita seriamente, con spirito pacato e positivo. Cominciò a fare il bilancio della propria passione, come faceva ogni anno quello delle amicizie scomparse e nuove, degli eventi e delle persone penetrati nella sua vita. Calmatisi i primi ardori della passione, indagò, con l'esattezza del negoziante che fa i suoi conti, quale fosse lo stato del suo amore per lei, sforzandosi anche di indovinare quale sarebbe stato nell'avvenire. Vi trovò una grande, un'intensa affezione, fatta di tenerezza, gratitudine, dei mille, minutissimi legami che insieme costituiscono poi una unione salda e durevole. Fu scosso da una scampanellata, esitò, avrebbe aperto, pensò che conviene sempre, in quella notte di capodanno, aprire allo sconosciuto che passa e bussa, chiunque gli sia. Prese dunque la candela, attraversò l'anticamera, tirò i chettenacci, girò la chiave nella toppa e, tratta la porta a sé, vide l'amante, ritta, pallida come una morta, che si leggeva con le mani al muro. «Che hai?» marbettò Jacques. «Sai solo?» «Sì». «Senza servi?» «Sì». «Stavi per uscire?» «No». Entrò con la sicurezza di chi conosce bene il luogo e appena fu in sala, si abbandonò sul divano, si coprì con le mani il volto ed ed è in un pianto dirotto, mentre lui, inginocchiatosi davanti a lei, tentava di allontanarle le braccia, di vederle gli occhi, ripetendo «Irene, Irene, che hai?» «Oh, te ne supplico, dimmi che cos'hai?» «Così non posso più vivere», mormorò la giovane donna fra i singozzi. «Che dici?» «Sì, non posso più vivere così, in casa mia. Non sai, non te l'ho detto. Non posso più, no. Soffro troppo. Anche adesso mi ha picchiata. Chi? Tuo marito? Sì. Ah. Lui si stupiva. Non l'avrebbe mai creduto tanto brutale. Era un uomo della miglior società, membro di circoli, frequentatore di teatri, di maneggi, di sale di scherma, conosciuto, citato, apprezzato dovunque, cortesissimo di modi, di mente poco più che mediocre. Privo di quella istruzione e intelligenza vera che impediscono di pensare come tutte le persone ben educate e, in compenso, pieno del dovuto rispetto verso tutti quanti i pregiudizi del mondo. Pareva contento della moglie, come si addice a persone ricche e ben nate. Si interessava abbastanza dei suoi decideri salute e abbigliamento e quanto al resto la lasciava perfettamente libera di sé. Randall, divenuto l'amico di Irene, aveva diritto alla stretta di mano affettuosa che ogni marito, il quale sa conformarsi alle buone usanze del vivere civile, deve agli amici della moglie. Poi, quando Jack, dopo esserne stato per qualche tempo l'amico, divenne della giovane signora l'amante, le sue relazioni con il marito furono più cordiali, sempre come si addice al vivere civile. Non aveva mai, in quella casa, né veduto né sospettato future tempeste, perciò se ne stava come sgomento dinanzi all'inaspettata rivelazione. «Com'è stato? Dimmelo!» chiese. Irene, allora, narrò una lunga storia, l'intera storia della sua vita dal giorno del matrimonio. La prima disunione nata da un non nulla e accentuata poi dalla divergenza ogni giorno crescente fra due opposti caratteri. Erano venuti agli alterchi, una separazione completa non apparente, ma effettiva, e poi il marito ci era mostrato aggressivo, ombroso, violento. Ora era geloso, geloso di Jack, e quel giorno dopo una disputa l'aveva picchiata. «Non voglio più tornare a casa», concluse con fermezza, «fa di me ciò che vuoi». Jack le si sedette davanti, così vicino che le loro ginocchia si toccavano. Le prese le mani e disse, «Amica mia, state per commettere una grande, irreparabile sciocchezza. Se volete abbandonare vostro marito, procurate di addossargi tutti quanti i torti, in modo che la vostra reputazione ne esca intatta. Che mi consigli di fare allora?» gli chiese la giovane guardandolo con occhio inquieto, «di tornare a casa, di tollerare fino al giorno in cui potrete ottenere la separazione o il divorzio con tutti gli onori di guerra. Ma non è una vigliaccheria? È una cosa ragionevole, invece. Dovete salvaguardare l'alta posizione e il nome, conservare gli amici, avere per i parenti i dovuti riguardi. Non è giusto dimenticare e perdere tutto ciò con una decisione avventata.» Irene si alzò e proruppe violentemente, «No, no, non ne posso più. È finita, finita, finita!» Quindi, poste le mani sulle spalle dell'amante e fissandolo fino in fondo agli occhi, «mi ami? Sì, proprio? Sì. Allora, tienimi con te.» «Tenerti con me?» esclamò Jacques. «Qui, in casa mia? Sei pazza. Ti perderesti per sempre, irreparabilmente. Sei pazza!» E allora lei, con lentezza e gravità, da donna che sente il peso delle parole che pronuncia, «Ascolta, lui mi ha proibito di rivederti e io non voglio recitare la commedia di venire da te di nascosto. Bisogna dunque o perdermi o prendermi.» «Quand'è così, Irene, ottenete il divorzio e io vi sposo. Sì, da qui a due anni a farla breve. Avete, caro signore, un amore paziente, voi? Via, riflettete. Se restate qui, lui verrà domani a riprendervi, perché è vostro marito. E ha dalla sua parte il diritto e la legge. Non vi domando di tenermi qui con voi, ma di condurmi via per... Mi sono ingannata su voi. Addio.» E si volse e si avviò verso l'uscio, tanto presto che lui poteva ferrarla solo quando era già uscita dalla stanza. «Ascoltate, Irene!» Lei si dibatteva, non voleva udire parola, e mormorava con gli occhi pieni di lacrime. «Lasciatemi andare! Lasciatemi! Lasciatemi!» Ma lui la costrinse a sedersi, e inginocchiatosi dinanzi a lei, si sforzò, accumulando ragioni e consigli di farle comprendere la follia e l'orribile pericolo del suo progetto. Nulla dimenticò di quanto fosse stato necessario per convincerla, cercando mezzi di persuasione nella stessa sua tenerezza. Siccome se ne stava muta e gelida, la pregola scongiurò ad ascoltarlo, di credergli, di seguire il suo consiglio. Quando ebbe finito, lei rispose solo questo. «Voglio andarmene. Lasciami, che io posso alzarmi!» «Irene! Mi lasci sì o no?» «Irene! È irrevocabile la vostra decisione?» «Lasciami, lasciami!» «Ditemi prima se la vostra pazza risoluzione, di cui poi vi pentirete amaramente, è irrevocabile!» «Sì, lasciatemi!» «Rimani allora. Partiremo insieme domani.» Lei fece uno sforzo per svincolarsi, e ci riuscì. Poi con asprezza. «È troppo tardi. Non voglio sacrifici io, né abnegazioni.» «Rimani, ti dico. Ho fatto tutto quanto dovevo. Tutto ciò che dovevo l'ho detto. Non sono più responsabile verso di te. La mia coscienza è tranquilla. Esprimi i tuoi desideri. Obedirò.» La giovane tornò a sedersi. Lo guardò a lungo, poi, calmissima. «Spiegati!» Disse. «Che vuoi che ti spieghi?» «Tutto, tutto! Il pensiero che ti ha indotto a mutare parere. Dopodiché vedrò ciò che mi conviene fare.» «Non ho pensato a nulla. Dovevo avvertirti che stavi per commettere una pazzia. Insisti, e io allora domando la mia parte. Anzi, la esigo. Non è naturale cambiare così, da un momento all'altro.» «Ascolta, cara. Qui non si tratta né di sacrificio né di abnegazione. Il giorno in cui fui persuaso che ti amavo, mi sono detto tutto ciò che gli innamorati dovrebbero dirsi nello stesso caso.» «L'uomo che ama una donna, che si sforza di conquistarla, che l'ottiene, se la prende, contrae di fronte a se stesso e di fronte a lei un impegno sacro. Se ben inteso, lei è una donna come te, e non di quelle che aprono troppo facilmente il cuore. Il matrimonio, che ha un grande valore sociale, secondo me non ne possiede che uno morale lievissimo, date le condizioni in cui esso generalmente viene contratto. «Quando una donna, dunque, avvinta da tale legame giuridico, ma non amante del marito, e il cuore della quale è libero, incontra un uomo che le piace e si abbandona a lui, quando un uomo senza legame alcuno si unisce a una tale donna, io dico che essi si impegnano l'uno verso l'altra, con mutuo e libero consenso, assai più che col sì formolato dinanzi alla sciarpa del sindaco. Dico che, se sono entrambi onesti, la loro unione deve essere più intima, forte e santa di qualsiasi altra, fosse pure stata consacrata da tutti quanti i sacramenti. La donna mette tutto a repentaglio, ed è appunto perché lo sa, perché dà ogni cosa, cuore, corpo, anima, onore, vita, perché ha preveduto miseria di ogni sorta, pericoli, catastrofi, perché compie un atto ardito, intrepido, perché è preparata a sfidare sia il marito che può ucciderla, sia il mondo che può ripudiarla. Appunto per questi motivi diventa rispettabile nella sua infedeltà coniugale. È per questi motivi che il suo amante, unendosi a lei, deve aver preveduto tutto anche lui, preferirla a tutto, qualsiasi cosa avvenga. Non ho più nulla da dire. Prima ho parlato come un uomo saggio che doveva consigliarti. Ora, in me, parla l'uomo che ti ama. Ordina. Lei, raggiante, gli cuise la bocca con le labbra, sussurrandogli. Non c'è nulla di vero, anima mia, di quanto ti ho detto. Mio marito non sa niente, non ha alcun sospetto, ma volevo vedere, sapere, ciò che avresti fatto. Volevo i doni di Capodanno, quelli del tuo cuore. Ben altro dono che il monile di poco fa. me l'hai dato. Oh, grazie, grazie, signore Dio. Come sono contenta.